Salve a tutti ragazzi, sono sempre Iomenz e benvenuti in questo nuovissimo video dedicato alla cara allenatore con il nostro portenone Signori, mi sono accorto adesso che abbiamo 151.329 follower Stiamo crescendo da matti Eppure la nostra situazione in classifica non è delle migliori Oggi abbiamo delle parete fondamentali E quasi il calcio in mercato passa in secondo piano Voglio andarmelo a giocare subito Con il sassuolo E poi vedremo cosa ci riserverà il futuro Questo è... mamma mia siamo messi veramente come il... Purs Allora, Perizan Ok, Camporese che è una certezza nel caso al posto di Pappetti Facciamo giocare anche Fischerone al posto di Escobar Che nel caso subentra Dio è appena tornato da un infortunio Quindi lo mettiamo in campo al posto di Buttig E... E Shingai-O al posto di Pavon Che subentra e spacca tutto Signori, andiamo in campo sempre sul pezzo E forza ovviamente Pordenone Attenzione perché si era ripartiti Ma va fancul... Ma... Ok Ehm... Fa lo stesso Chi è? Biol Oddio Biol Ehm... 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 E' 1-0 Pordenone Oh, ve lo giuro ragazzi Ho atteso questo momento per registrare C'è stato un silenzio clamoroso fino adesso E adesso c'è un elicottero Un elicottero che sta volando sopra a casa mia Un elicottero Giovanni Negri dici una macchia Un motorino Un elicottero C'è un casino della madonna Spero che non si senta in registrazione Mi sta triggerando tantissimo Ma che gol ha fatto Pedro Gonsalves Mamma mia Mamma che palla per Bogà ragazzi Se mi fanno gol così però... Mamma mia Stergione No, sta origine se mi fanno gol così lo accetto Però Stergione ha fatto una chiusura devastante Pedro Gonsalves Ragazzi, dobbiamo fare il prima possibile Il secondo gol Attenzione, Dio C'è Campos lo prova Ha colpito nei maroni 1 Fa lo stesso Ci siamo ancora Shinyaio Dai ragazzi Sti passaggi della... Della Mizega Veramente E' che dici che sono passaggi complicati Aieie Per Dio Attenzione, è passato Non è passato Bravo, bella chiusura di Ayan Siamo in vantaggio ragazzi Dobbiamo mantenere questo Risultato Troppo importante Dio Occhio questa palla per Shinyaio Che se ne va Bravo Shin Una finta e non passa Niente Comunque ragazzi c'è Mi va bene che ha preso il pallone Ma gli si sono schiantati addosso Come una palla Distruggi edifici Com'è che si chiama? Una palla da demolizione Attenzione Da fuori? Pedro? Oh mio Dio Ormai fa il secondo Allora ragazzi Mamma mia Pedro Gonsalves Ce l'ha Ce l'ha da fuori Dobbiamo fare dei cambi però Dobbiamo fare dei cambi Allora Vediamo un po' come siamo messi Per esempio Aye male Io direi che potremmo provare Pavon Seconda punta Più che altro Pavon come Che scorrazza ancora parecchio Dio Eccola No Pavon Dai vecchio mio Ma come hai fatto a non prenderla? Su ma Un po' di vergogna Pavon Mettila bene Ho detto mettila bene Dai Dio Mannaggia la miseria Mamma stergio Ma che chiusura ha fatto ragazzi Ma con che scioltezza Ma con che scioltezza Ci siamo 2-0 Pordenone Con Gus Till La parata Signori Finisce qui Questa vittoria è stata fondamentale Veramente Veramente fondamentale Avevamo Tutta la vita Bisogno di questa vittoria E abbiamo Stradominato la partita Sono molto contento Della nostra prestazione Un po' spreconi Devo dire un po' spreconi Lazio e Atalanta pareggiano Questo è bene L'Inter batte la Juventus Va bene così Tanto noi non abbiamo Al primo posto Ma Eravamo ottavi Prima siamo ottavi Adesso Però abbiamo allontanato Il Sassol E abbiamo l'Atalanta Ragazzi Vincere contro l'Atalanta Sarebbe Non fondamentale di più Allora Abbiamo Una novità Negli osservatori Con Foster Come punta Non sembra male Non sembra male Però Io ragazzi Sinceramente Preferisco Openda E quindi Io gli darei Rossetti Gli offrirei qualcosina Magari Nel costo di trasferimento Non posso fare Un aumento Nell'ingaggio annuale Ragazzi Farei così Vediamo Torniamo così ragazzi Torniamo così Per forza Sempre sul pezzo E forza Pordenone Per questa Pordenone per questa Barriera contro l'Atalanta Bella ragazzi 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 Ho capito che gli ho detto Di reinserirsi Ma fermati Quando vedi che il pallone Ti va perfettamente Sui piedi Fermati Dove stracacchio Dovevi andare ancora Pedro Ancora Pedro Annaggia Attenzione Till Da fuori Grande parata Pallone che ha preso Oddio Ha preso una Via strana Guerrieri Paranche Su Aie Aie Bellissima Si sta Ripresentando Esattamente La stessa Cosa Di qualche Episodio fa Adesso Adesso siamo Devastanti Adesso siamo Devastanti Ma non voglio Dire nient'altro Non voglio Dire nient'altro Bellissima azione Non la voglio Neanche rivedere Voglio stare Concentrato Qui sul match Mamma che Palla recuperato Pedro Ma non è mai Fallo quello È un Contatto di gioco Tranquillissimo La danza Classica Devi andare Ad arbitrare Gomez Che la prende Di testa Le ho viste tutte Dai che l'hai presa Dai che l'hai presa Niente ragazzi E questo non è fallo Ah ok Stabo Stabo No perché Gliel'avevo rubata Ben rischiato Comunque ragazzi Attenzione ragazzi Di tacco Madonna mia Ti tolgo La prossima volta Che mi fai una roba Così di tacco Che non ti chiedo Ti tolgo Dio Attenzione Perché si sta Liberando Pedro Consalves Davanti a Guerrieri Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sono troppo Concentrato Battilo bene Battilo bene L'ha colpita malissimo Biol di testa Comunque ragazzi Attenzione Uuuuh Ecco la prima occasione Per l'Atalanta Con questo colpo Di testa Dili Cic L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto saltare Un po' troppo Facilmente Devo dire Molto facilmente Frimpong Finisce qui Il primo tempo Finisce qui Il primo tempo A me E' un po' Di partite Che Facciamo così Mettiamo Pavon Qua Seconda punta E facciamo Entrare Shin Sono molto Teso Ragazzi Sono molto Molto Teso Sono molto Molto Teso Perché ho Paura Ragazzi Non ci posso Credere C'è anche Caressa È stato Zitto Che parata Ha fatto Tigre Ragazzi Che parata Ha fatto È un segno Forse Oh la madonna È un segno Forse No Non è nessun segno Non riesco a buttarla Dentro per la seconda Volta Ragazzi Bravo Biol Mamma mia Quando giochi così Biol No 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 Non è giusto Che fatica Ragazzi Che fatica Pavon Attenzione A Frimpong Va bene Va bene Facciamo dei cambi Anche noi 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 Allora Dio Non ce la fa più Ragazzi Allora Mettiamo Butic Togliamo anche Pedro Gonçalves È dentro Calò No 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 Oh mio Dio Va bene Lo stesso Dieci minuti Ragazzi Sono in ansissima Sono in ansissima Non so se si dice Ma Ho super paura Soprattutto dei loro cross Dannatissimi Till Che lottatore Ti prego Buttis Dagliela bene Ok Con calma Adesso Ok Till Avanzate Tillone Lo so Che sei stanco Di cuore Till Di cuore Till 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 Bravo 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 Bravi ragazzi Ti è Bravi Bravi Va bene Va bene Bravi Non ho altro da dire Questo è quello che fa anche una grande squadra Cosa che noi non siamo E fallo Porca puttana Finita 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 No 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 Sì Fortuna che lì ci c'è Stanchissimo ragazzi Ci portiamo a casa anche questa Ma andiamo Cavolo Ma andiamo Stiamo risalendo Con una fatica disumana Ma stiamo risalendo Ma stiamo risalendo Io c'ho ancora negli occhi La parata di Di Gregorio Vittoria meritata Per carità Ma Quella lì è una parata miracolosa L'Inter pareggia Il Napoli pareggia La Tannata perde Si gode Siamo settimi A 37 punti Però ragazzi E' dura Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo lì Dai 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 E' ancora dura Allora vediamo cosa mi dicono Per Openda Hanno rifiutato Allora riproviamo Giocatore da scambiare Gli diamo Come detto Rossetti E aumentiamo Va bene Gli anni Ok Solidarietà 5% E gli diamo anche Bonus presenze Anzi più che bonus presenze Gli diamo bonus goal Andiamo Si avanza ragazzi Partita contro la Spal Da non sottovalutare Come sempre Come sempre Biol Deve prendersi un attimo di riposo Quindi facciamo giocare Calò Per il resto ragazzi Basta così Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza ovviamente Pordenone Sennacalò Gran palla recuperata Buttic Bella per Aie Che prova a girarsi Circondato Calcio di punizione Calcio di punizione Secondo il direttore di gara Tiri tu Tiri tiri tu Tiri taratarada Non è vero Ho preso Quello alto Dai Dai Oh Abutic Devi proteggere la palla Non toglierti Forza Bravo Escobar Sì è bellissima Buttic L'ha fatto Ha sentito La critica E la buttata nel sacco Buttic Mamma mia ragazzi C'ho la gola secca Troppo importante sto gol Ma che bel gol Borraccia del Pordenone Bellissimo ragazzi Perché c'è stato un gran recupero Di palla Di Escobar Che poi l'ha messa in mezzo Molto bene Devo dire Bravo Buttic qua Anzi prima Pavone Vero Bravo Buttic Veramente Stop e tiro Bravo Attenzione a questa palla Per Castro Esci Se l'è allungata Quanto godo Mamma mia L'abbiamo fatto uscire In modo perfetto Di Gregorio Ragazzi qua Attenzione a questa azione Buttic Di là Mannaggia Mannaggia Che sfortuna Va bene Va bene Dai Primo tempo Che si conclude qui Signore Ci siamo noi In campo Un paio di occasioni Anche per la spalla Ma le abbiamo Chiuse subito Ripartiamo un attimo Così Poi fra una decina di minuti Andiamo di cambi Buttic Dai aieie Dai aieie Finalmente Finalmente aiee 2-0 2-0 Pordenone Gran goal Gran goal Tia aieie Fantastico Questo è veramente un gran goal Questo è veramente un gran goal Mamma mia Bellissimo Bellissimo Siamo tornati ragazzi Siamo tornati Allora ragazzi Io direi che Un paio di cambi potremmo anche farli Perché In questi giorni Tiel ha giocato tantissimo E chi ha giocato poco E' stato Brescianini Quindi io direi Dentro Brescianini Poi Pavon Seconda punta Riposo anche per aiee Evitiamo di Cioè vorrei Aiee e Dio Carichi per la prossima partita Dentro Andre Anderson Che anche lui sta giocando poco E poi Fischerone Che è in forma Dentro al posto di Escobar Oh Ma chi se l'aspettava Una roba così Sembrava innocuo Questo calcio d'angolo Bellissimo Questa palla di Sec Per Murgia Attenzione perché Murgia Ogni volta che Vede Nero verde Diventa un mostro Questa volta però Lo fermiamo sul nascere Bravo Brescianini Che si piglia pure una stecca Ma possiamo ripartire Con Andre Anderson Buttic La sponda Per Pedro Goncalves Che prova a rigiocare E la Arriva Tomovic Attenzione E alla fine La spalla gestisce bene Signori Ci stiamo avvicinando Al novantesimo E siamo in vantaggio Per 2 a 0 Sapete cosa vuol dire questo Che oggi Ci portiamo a casa Altri 3 punti 3 partite 9 punti E non potevo Sperare di meglio All'inizio di questo episodio 4 minuti di recupero Madonna Ma per cosa Ci siamo ripigliati Da un paio di episodi Davvero Davvero negativi Sarebbe bellissimo Fare il 3 a 0 Bellissimo Azione ragazzi Brescianini In qualche modo Passa niente da fare Va bene ragazzi Sono stracontento Comunque Sono stracontento Comunque Grazie a Buttic Ed a Ye Ci siamo Risollevati Andiamo a vedere subito La classifica Devo dire che poi Dopo aver fatto il 2 a 0 L'abbiamo controllato Non abbiamo fatto altro Proprio Proprio sciolto Sciolto Inter Atalanta Pareggiano Il Juventus vince Il Napoli Batte la Lazio Il Milan batte la Roma Ok quindi Rimaniamo lì Eh sì Rimaniamo lì Perché Perché il Milan Continua a vincere La Roma perde punti Però vedete che adesso I punti Dall'Atalanta Sono 3 E il prossimo episodio Mi fermo qui ragazzi Semplicemente per un motivo Sono in feed Non voglio giocare Con la fortuna Ok Non voglio giocare Con la fortuna Perché so già Che se andassi a giocare Questa parte Non mi voglio far ingolosire Ecco So già che siamo andassi a giocare Questa parte contro il Napoli Non andrebbe bene Allora Frimpong Openda ha rifiutato di nuovo Cosa mi offrono per Frimpong Scusatemi Giusto così per capire Perché Frimpong Devo dire che vale Frimpong Devo dire che vale Qualche spicciolo Direi proprio che Ma non può valere così poco Frimpong Poi Qua mi chiedono Di rinnovare I contratti Allora Li rinnoviamo Proviamo a fare Questa richiesta Mamma mia Quanto prende Biol Ma se provassimo A A fargli un'offerta Con uno stipendo Più basso Magari C'è Gaskin Avevo un sacco Di giocatori Che mi Chiedono Il rinnovo Questo è un problema Questo potrebbe essere Un problema Per il momento Openda ancora nulla Ragazzi Avanziamo un attimo Ah no Abbiamo prossima partita Allora signori In questo momento Noi ci possiamo salutare qui Il prossimo episodio Sarà Fine del calcio Mercato Napoli Verona Udinese E poi se non sbaglio Abbiamo Cagliari Roma Coppa Italia E poi Lo Schalke 16esimi Di Europa League Signore Noi ci salutiamo qui Spero ovviamente Che questo episodio Vi sia piaciuto Decisamente Positivo E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi